Buonasera, vi prego di seguirmi per circondare il teatro. Dietro questa parete del poillet, tutti possono parlare liberamente di qualsiasi argomento ad alta voce. Ascoltate la pizzeria. Il teatro è circondato. Sì, nessuno si è avvicinato. Perché la prima parete che cattavente è questa. Attenzione, il creazzo è circondato, il nessuno si muove. Prima erano le due despertate di queste figlie taschie. Adesso stanno diventando veramente due piccole tefasi. Solitario, è solo, balla solo. Le sue colmas sono sempre più dei vessilli. Grandi applausi, grandi applausi. Ciao a tutti. Grazie a tutti.